Musica Musica La segn'auto intervisterò con il lato Cosa? Questa è una domanda troppo difficile Quindi mi sento di poter ritirare il dado subito, immediatamente Dove? Ecco, dove è più facile? Dove è il Carroponte? Il Carroponte è proprio un bel posto Un bel posto per dove è situato, cioè Sesto Secondo me è un bel posto per vivere, ci vive mio padre È un posto che comunque ho frequentato negli anni per conoscenze di amici Ed è una bella città ed è bello che in una città così ci sia un posto del genere Perché secondo me è una validissima alternativa ad altri posti anche belli Però voglio dire a Milano non è che sia rimasto chissà cosa Per passare del tempo e questo è un'ottima cosa Chi? Io chi? Direi Mauro Ferrarese e Angelo Rossi Che sono due... Mauro Ferrarese è la persona con cui ho iniziato a fare questa musica Che suono adesso È un uomo meraviglioso È una persona che mi ha insegnato Per il quale ho rubato le poche cose che so fare E Angelo Rossi è un altro amico che è proprio un'ispirazione continua Per le cose che fanno Se vi dovesse interessare cercatevi perché vale veramente la vita Stasera sono con un amico Cristian Aliprandi Che è un ottimo batterista tra l'altro qua di Sesto Io faccio il woman band da qualche anno È un po' che faccio questa cosa qua Ho iniziato nel 2007 mi sembra Perché sempre con Mauro Ferrarese Suonavo il contrabbasso appunto Siamo stati a un festival a Lugano Ho conosciuto questo... Un woman band che c'era lì Insomma mi è venuta in mente l'idea di fare questa cosa E la faccio Adesso avevo voglia un po' di variare Cioè di continuare a fare questo tipo di musica Che se vogliamo possiamo chiamare blues Ma cambiando un pochino Adesso sto provando con lui Ho anche un armonicista affidato Spero a breve di poter proporre un trio Spero a breve di poter proporre un pochino Spero a breve di poter proporre un pochino Perché? Ah perché mi piace Grazie Dado Perché è l'unica roba che Ho mai fatto con impegno Sono una persona sfogliata La musica è l'unica cosa Nella quale ho messo veramente sempre impegno e passione Ed è l'unica cosa che so fare E che mi interessa fare In realtà Per il resto proprio Sono una Quando è Adesso Da adesso finché Sarà possibile Adesso io Sto riuscendo a suonare bassa Da un po' di tempo E È molto difficile Però non è così difficile Come Si può pensare Ovviamente Non ci si può comprare subito E Non ci si può pensare Grazie amici Grazie a tutti